Come Università Cattolica sul territorio cremonico Come Università Cattolica sul territorio cremonese collaboriamo molto con le scuole, principalmente in una logica di orientamento per chi vuole proseguire con noi gli studi universitari, ma in realtà abbiamo capito che la nuova generazione di giovani ha bisogno di spirito di intraprendenza, di voglia di fare e di creare. Abbiamo trovato nelle scuole e in credito padano un partner che condividono questa cultura del fare e da qui è nata la proposta agli istituti scolastici, seminari di formazione sul tema dell'innovazione e di intraprendenza, un contest che va molto di moda, quindi una competizione vera tra team di giovani su idee innovative. Sette istituti hanno aderito, i loro docenti, i dirigenti scolastici, 173 ragazzi, 27 team. Siamo stati molto contenti di essere coinvolti dall'Università Cattolica in questo contesto, da sempre, anzi soprattutto nell'ultimo periodo non direi da sempre, il credito cooperativo si sta spostando ovviamente sulle nuove generazioni anche con un'innovazione tecnologica che stiamo portando avanti in maniera celere proprio per avvicinare i giovani anche alla banca. Sono andati a toccare vari ambiti, dal pratico dell'agricoltura alla super tecnologia, tutto quello che c'è di mezzo l'hanno toccato e si sono dimostrati veramente bravi e validi. Grazie a tutti!